Nessun annuncio ufficiale, ma ormai è chiaro, Teresa Ciglia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati. La coppia nata a uomini e donne, convolata a nozze nel 2016, non ha ancora svelato i motivi della rottura. Preferiscono entrambi mantenere un basso profilo sulla questione, infatti, da parte dell'ex corteggiatore non arriva ancora alcun segnale. Non si conoscono, dunque, i motivi che hanno portato Teresa e Salvatore a chiudere la loro storia da nonostante ciò, l'extronista decide di rompere il silenzio rivelando come sta affrontando questo duro periodo, svelando qualche dettaglio in cui non è facile procedere serenamente con la propria vita dopo la fine di un matrimonio o di una lunga relazione. Sebbene questo sia certo, Teresa non ha alcuna intenzione di abbattersi. Nei giorni scorsi, prima ancora dello sfogo delle scorse ore, ha condiviso varie foto in cui appare sorridente, per dimostrare che la vita va avanti e che c'è sempre una luce da seguire. Vi racconto una storia. Alla fine lei ce la fa, ha scritto qualche giorno sul suo profilo Instagram, dove ha eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme a Salvatore. Teresa Ciglia di Uomini e Donna ha anche ringraziato i suoi fan per i messaggi di affetto che le stanno riservando dopo l'uscita delle prime indiscrezioni sulla rottura con Di Carlo. Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltare pagina e ricominciare e ancora ridi ogni volta che puoi. Questi post condivisi dall'ex tronista per confermare la sua voglia di andare avanti nonostante in queste ore, però, si lascia andare a un piccolo sfogo, attraverso le stories di Instagram. C'è chi, evidentemente, non ha apprezzato la sua scelta di mostrarsi con il sorriso sui social network dopo la rotina. Molti, forse, credevano che uno dei volti più conosciuti del trono classico si sarebbe chiusa nel suo silenzio, per affrontare il dolore.